Un ospite davvero eccezionale, un calciatore conosciuto in tutta Italia, forse anche in tutto il mondo. Ultimamente ha avuto un problemino che per fortuna ha superato alla grande. In passato è stato un ragazzo un po' irrequietto, ma è successo qualcosa di bellissimo nella sua vita che lo ha cambiato completamente. È diventato papà. E ora è un uomo premuroso e affettuoso. Per voi, Antonio Cassano! È per te che mi ho cambiato a cento, è per te che faccio allenamento, è per te che adesso le mie gioie non sono più le troie, è per te tutto quello che c'è, Cristofè, Cristofè. Cristofè, mi hai cambiato la vita. Da quando a te sono una persona più serena, più felice, più colto, in una parola più migliorato, ecco. Adesso ti faccio una confessione, è una cosa difficile da dire a un figlio. Papà non è laureato. Te l'ho detto adesso, non voglio che magari poi lo vieni a sapere dai giornali. Papà ha fatto tanti errori nella vita sua. Cristofè, con le donne, ti prego, non fare le cose che ho fatte io, io ne ho avute tantissime, troppe. Mi ricordo quando stavo a Madrid, quante spagnole. Poi lo stesso, quando sono tornato in Italia, quante spagnole. Un giorno capirà il bambino che cosa sto dicendo. Ma alla fine, alla fine cosa mi hanno lasciato, Cristofè? Niente. Anzi, ero io a nivò al 200, 300, 400, ma non è una questione di soldi, Cristofè. È una questione del cuore. È una questione di diventare un uomo migliore. Di palannuoto, la guardavo e provavo l'amore vero. Andavo negli spogliatoi, non mi veniva di fare sesso. Eppure era lì, già bagnata, volevo dire, potevo andare... Ma l'amore, Cristofè, l'amore, camminavamo insieme per la strada. Mi sentivo come che io ero Romeo e lei, Alfa. Si parlava, si parlava, si parlava, era bellissimo. E grazie a voi... Mi capite, vero? Mi capite. Io non vi abbandonerò mai, mai, Cristofè, mai, per nessuna cosa al mondo. Mai, starò sempre con voi due, Cristofè. Pronto? Pronto, Antonio, sono Terry, ti ricordi di me? Terry di Molfetta, tutto culo e mia detetta? Sì, sono io, Carnut, come stai? Eh, sto bene, sono guarito, tutto a posto adesso, dimmi, dimmi. No, niente, prima di tutto ti volevo fare le auguri. Grazie. Poi mi sono detta, siccome sto dalle tue parti, morocchiamo, vediamo, si vuole venire a fare una birra, sai, come i vecchi tempi. No, Terry, ascolta, guarda, adesso io sono un padre, sono un marito fedele, quindi te lo dico teneramente, fatelo buttare da qua che da un altro, perché, vedi... Sì, sei sempre stato romantico. Lo so, però... Senti, e non è che c'è un amico a Milano? Fammi pensare un attimo. Lo tengo, Terry, aspetti un attimo in linea. Adesso papà ce la manda a una persona che adesso in questo momento sta anche un poco triste, però gli piacciono questo tipo di situazione. Eccolo qua. Pronto? Pronto, Antonio Cassano, carissimo. Ui! Come stai, Trombolo? Tu ti a posto? Ascolta, mi chiami perché ti hanno messo fuori dalla rosa della squadra? No, perché devi entrare tu nella rosa di una ragazza stasera. Ascolta, e come mai pensi che la cosa possa interessarmi? Eh? No, dico, come mai pensi che la cosa possa suscitare in me interesse? Eh? Ma è una battuta, Antonio. Non l'ho capita, Presidente. Insomma, che cosa gli devo dire? Vuoi fare stasera? Ma fare cosa? I funghi. Cosa c'entrano i funghi? È una battuta, mica cretino come quella che fai tu, una battuta intelligente. Dai, capisce solo le battute sceme, questo qua. Senti! Che devo fare? Te la deve mandare? Ma certo, mandamela. Ascolta, ma quanti anni ha? Che ne so, 23, 24. Va bene, dai, gallina vecchia fa buon brodo. Ascolta, Antonio, una cortesia. Quando mi fai questo tipo di telefonate, cerca di usare degli eufemisi. Dico, quando mi chiami per dirmi che mi devi mandare una figa, usa una forma diversa. Ah, allora sta arrivando Terry, una ragazza con la figa quadrata. Antonio Cassano! Il mitico Antonio Cassano!